Quali sono questi tipi di uomini che dovresti evitare? Beh, partiamo dal primo punto. Il primo punto è il famoso festaiolo, quindi l'ubriacone. L'ubriacone è un tipo di uomo che chiaramente non ti consente di avere, diciamo, una buona stabilità per via di quello che è il suo atteggiamento, il suo comportamento appunto festaiolo. Ma non che essere festaioli non sia ovviamente il massimo della vita, cioè non sia sbagliato perché va bene, insomma uno fa festa eccetera, però in teoria se vuoi una relazione stabile dovresti evitare proprio alcune tipologie di persone, alcune tipologie di uomini che a quanto pare risultano essere teoricamente dannosi per una buona riuscita. Perché? Perché l'ubriacone, il festaiolo per natura ha uno stile eccessivamente elevato diciamo ha uno stile di vita, un approccio alla vita in generale molto iperbolizzato forse potrei dire quasi che rasenta diciamo una sorta di infantilità, di immaturità quindi pensare di avere una relazione stabile con questo tipo di persona secondo me non è proprio il massimo della vita proprio perché quello stile è infantile, di solito è nei vent'anni che una persona non è poi così stabile a livello relazionale quindi ha quello stile da ventenne, che magari ce l'hanno anche persone di 40 anni che conosco che appunto alle quali suggerirei di cambiare stile perché appunto fare festa, obbligarsi a più non posso ancora a 40 anni ahimè è un indice di immatuità perché a mio avviso c'è un tempo per tutto e poi dipende anche da quello che hai fatto, un indice di soddisfazione eccetera non che tu non possa non farlo, non che tu non possa farlo però non credo che sia una cosa che appunto fa pensare a una stabilità e pensando a una relazione stabile non è una caratteristica che ti interessa poi c'è il numero 2 quindi il traditore seriale beh sai ho tradito tutte le mie partner in passato le mie ragazze le ho tradite tutte beh in quel caso che cosa ti vuoi aspettare? cioè uno che ha tradito le persone in passato è probabile che lo rifaccia in futuro la ripetizione di una traccia con portale passata è più probabile rispetto a situazioni dove non c'è stata quindi vuol dire che se tu sei una persona che di solito tradisce è più probabile non dico che certo ma è più probabile che possa tradirti in futuro quindi anche lì avere una relazione stabile con una persona che sceglie di tradirti non è che sia proprio tanto interessante o comunque tanto appetibile almeno a mio avviso andando avanti di conseguenza abbiamo invece quindi la terza caratteristica quello finanziariamente irresponsabile ci sono tante persone uomini e donne che finanziariamente sperperano ogni cosa i loro averi risperperano senza problemi e lasciano che i loro averi vadano insomma in pasto al mare e anche i loro averi risposto che i loro averi risposto che i loro avviso